Ciao a tutti ragazzi, oggi vi presento un nuovo hack di S4 League è solo un hack normalissimo per le carte si chiama Cardhack io vi metterò il download in sotto descrizione quindi voi avrete questo qui, questo file zip Cardhack versione 5 dovete estrarlo e poi avete questi tre file che dovete lasciarli non dovete metterli proprio nella cartella S4, quello principale ma va bene in qualsiasi posto del vostro computer cioè posto in tenere qualsiasi cartella potete mettere anche nel desktop quindi apriamo l'hack non dovete pigiare ancora Start perché dovete prima aprire S4 League e far finire il conto del HGW così dovete pigiare Start dopo almeno tre secondi da quando HGW ha finito di contare fino a 12 e ci parte il hack io vi taglierò questa parte del caricamento di S4 League quindi ci vedremo alla pagina di login ecco qua ragazzi siamo alla pagina di login andiamo avanti ci loggiamo poi andiamo in qualsiasi server io vado sempre in quello italiano quando uso il hack poi andiamo sul card e abbiamo tutte le carte e possiamo fare per esempio io non ho abbastanza carte perché non ho giocato tanto in questo account se voi avete che ne so 5 o 6 carte e vi manca alcune potete fare l'exchange perché dovete avere almeno un po' di carte per prendere questo ancior anche con il hack ciao a tutti ciao da me da Rector e se avete qualche problema scrivetelo sotto i commenti ciao a tutti ragazzi grazie a tutti